Allora andiamo a vedere come funziona su WhatsApp il nuovo sistema per velocizzare l'ascolto degli audio messaggi. Apriamo ovviamente l'applicazione, andiamo appunto a vedere un contatto che ci ha appena mandato un audio messaggio. Ecco questa è la classica barra dell'audio messaggio che c'è su WhatsApp, il simbolo play, qui invece cambia qualcosa, ovvero non c'è più la foto del contatto che ha mandato l'audio messaggio ma un indicatore di velocità. 1x indica la velocità normale di riproduzione dell'audio messaggio, se clicchiamo nuovamente aumentiamo la velocità di riproduzione del 50% e in questo modo con il 2x la raddoppiamo, quindi torniamo a 1x e ascoltiamo il messaggio normale. Allora questo è un audio di prova per Italian Tech per capire come funziona il nuovo sistema per velocizzare l'ascolto degli audio messaggi su WhatsApp. Stiamo ascoltando questo messaggio appunto a scopo illustrativo per capire se questa tecnologia funziona e come funziona. Ecco vedete dopo la riproduzione del messaggio a velocità raddoppiata scompare l'indicatore di velocità e ritorna il volto appunto di chi ha inviato il messaggio. Basta ricliccare su play per far ricomparire l'indicatore di velocità che rimane impostato così come l'abbiamo lasciato l'ultima volta. E questa modalità resterà per tutti gli audio messaggi che andremo ad ascoltare successivamente. Quindi bisogna riportare il tutto su 1x per avere una velocità di riproduzione normale su tutti gli audio messaggi. Grazie.